L'apprezzo, apprezzo la lettera, dopodiché è stato ricordato anche da altri, vedremo i comportamenti. Detto ciò, credo che vada data a una persona che è stata eletta democraticamente la possibilità di dimostrare che veramente non è come fare in quel video, perché se così fosse è chiaro che la riparisco. Certo, ripetirei di trovare il disagio a vederla in dossier comunali, però le parole della lettera sono le parole che lasciano presagire una presa di responsabilità e la volontà di dimostrare finalmente i suoi fatti che non è quella che appare a quel video.